Partiamo con un paradosso, che Bologna ha al 50% uno splendido villaggio e al 50% una metropoli come Chicago. Se il paradosso fosse vero, avremmo già le condizioni per uno stato nevrotico. Bologna è una città deliziosa in cui si può passeggiare sotto i portici, in cui io so che alle 6 di sera un certo collega sta prendendo l'aperitivo al bar Taldeitali, alle 7 e mezza ad un altro bar, dove la gente si conosce, si incontra. Grazie.